In politica le battute becere credo che vadano sempre condannate, ma vorrei che i tribunali italiani fossero impegnati su delitti e crimini ben più efferrati. Credo che l'ex inutile ministro dell'integrazione Stesil Chieng ha detta di fatto dello stesso PD, visto che quel ministro dell'integrazione Renzi l'ha abolito in un nanosecondo. La Chieng non può pretendere una sorta di immunità razziale, non è che perché tu vanti una origine etnica piuttosto che un'altra puoi essere immune da critica. Ma infatti quando lei dice che è stato un pessimo ministro è inutile e nessuno le dice che lei è razzista, e se la chiama Orango è un'altra storia. Evidentemente i senatori del PD in commissione, ripeto, hanno avuto la stessa nostra percezione che non si può, ripeto, invocare immunità razziale. E la Lega per prima aveva detto che... Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Ma si rende o no? Ma io credo che è pazzesco! Cioè lei non ha neanche l'età di Calderoli che è scusato al fatto che è anche un po' zianotto, lei è anche giovane e dice queste cose. Ma è pazzesco, ma se lei si deve vergognare di quello che sta dicendo? Se io vengo insultata per le mie origini etniche, perché sono bergamasca, devo andare in un tribunale, fare i proclami... Ma la faccia qui, lei sta facendo l'ipocrita, lei sta facendo l'ipocrita, quindi si sta parlando di una donna africana, non si sta parlando di una donna bergamasca, non faccia l'ipocrita, non cerca... Le origini etniche per me sono un valore e quindi non credo che... Ma il problema è che non esiste, che soltanto in Italia c'è un politico che dice una stifessa del genere. Lussana, Lussana, le provo a dire una cosa. Lei faccia tutto il giorno degli strumenti, non mi ha detto che non c'è un presidente nero, grazie a Dio, uno potrebbe male a dire una cosa del genere. I politici in questo paese per il momento sono quelli che animano il dibattito pubblico e quindi sono da esempio. Io ho dei figli adolescenti, se mio figlio dice una persona di colore che è un orango, passa un brutto periodo a casa mia, passa un brutto periodo. E infatti è una battuta pesce, ragazzi, è scusato pubblicamente. Se poi lo vanno in televisione, c'è bisogno di dire che uno dice queste cose impunemente, educhiamo male i nostri ragazzi, educhiamo male i nostri ragazzi, è razzismo. Il vicepresidente di Palazzo Madaglia è scusato pubblicamente. Ma è un modo per sminuire l'accaduto, quello è razzismo, non è una battuta pesce. L'odio razziale probabilmente è una sua ossessione, le assicuro che la Chiesa è più che integrata, è stata eletta all'Europarlamento, vive in un paese che l'ha accolta e l'ha fatta diventare anche ministro. E mi sembra che veramente siamo in un paese straordinariamente accolente. Quindi si deve ringraziare, perché non abbiamo che andare a cacciare e sedere. Per lei l'emergenza è il razzismo, in Italia il dramma è il razzismo. Torniamo un secondo alla Lega, perché a proposito di razzismo, per molto tempo la Lega è stata accusata di avere un atteggiamento molto sgradevole nei confronti dei meridionali, lo sapete noi, i coretti. In Italia l'emergenza è la sottocultura di cui lei è una degna rappresentante, quello è il problema italiano.